E' stato firmato presso la sala giunta di Palazzo Sant'Agostino a Salerno l'accordo di cooperazione internazionale stipulato tra la provincia di Salerno e la città prefettura di Eze nella provincia cinese dello Shandong. Il patto, che rappresenta il punto di arrivo di una serie di incontri avviati nel 2019, punta a rafforzare la comprensione e l'amicizia tra il popolo cinese e quell'italiano e a realizzare scambi di tipo economico, commerciale, turistico, scientifico, tecnologico, culturale e sportivo. All'incontro ha partecipato una delegazione cinese guidata da sei governatori, tra cui il segretario del comitato del partito comunista cinese della città di Eze, Lung Zhang, e da quattro imprenditori, tre presenti anche il presidente della provincia di Salerno, Franco Alfieri. Con tutte le riserve, perché poi sarebbe troppo bello quello che ci proponiamo di fare, ma noi siamo in una posizione di grande attizia, avere una collaborazione con una provincia della Cina, che sappiamo benissimo, sono miliardi di persone, quindi anche il piccolo ci potrebbe cambiare la vita, quindi è una grande prospettiva di collaborazione, ci auguriamo che passo dopo passo si possa concretizzare questo accordo economico e culturale. Ci hanno lavorato tanti amici che hanno lavorato mesi, anni per questo protocollo che oggi viene firmato, ecco, io sono molto fiducioso, perché mi pare che le persone che hanno collaborato sono persone concrete, sono persone per bene, persone serie e che sicuramente porteranno in porto un grande obiettivo nell'interesse della provincia di Salerno.